Ritorno all'appuntamento con Tra le righe incontro con l'autore. Il libro che vi presento questa settimana è scritto a quattro mani, sono una coppia, sono una famiglia, sono marito e moglie. Cristina Righi e Giorgio Epicoco hanno firmato per edizioni TAU Editrice Noi, storia di una chiesa domestica. Ciao, benvenuti, grazie per aver accolto il nostro invito. Ciao, grazie. Allora io comincio con questa frase che ho attinto dal vostro libro. Costruire il noi è come edificare una casa ed è un grandissimo investimento. Ogni mattone è necessario perché si unisce a tutti gli altri. In questa storia di vita, raccontata a due voci, si è dovuto ristrutturare la casa dalle fondamenta. Si sono dovuti abbattere i muri e riaccendere i lampadari. Anche il giardino è rifiorito e tuttora risplende sotto un bellissimo sole, sole con la S maiuscola. Allora, lascio a voi la presentazione. Chi è Cristina e chi è Giorgio? Chi siete singolarmente, ma soprattutto come poi siete diventati un noi? Allora, Cristina sono io. Ho scelto proprio per chiamata di essere innanzitutto moglie e madre dei doni che abbiamo ricevuto ai nostri quattro figli. L'ho scelto perché un giorno abbiamo deciso che io lasciassi il lavoro proprio per chiamata e questo ha consentito davvero che potessimo diventare un noi. Perché, come diciamo un po' a tutti in genere, questo sole che risplende oggi nella nostra coppia è stata la luce che ha acceso quelle che invece sono state le tenebre. Quelle tenebre che hanno, che diciamo rappresentavano la normale differenza che c'è nella storia di un uomo e di una donna, di una relazione, di una relazione coniugale. E proprio in quella dinamica noi abbiamo vissuto un tempo difficile. Ecco, questa è la ricostruzione delle fondamenta. Io sono Giorgio, da piccolo avevo un unico sogno che era quello di far nascere i bambini e sono arrivato a Perugia per studiare. Mi sono specializzato in ginecologia e adesso sono il direttore del reparto di ostetricia dell'ospedale di Perugia. Io sono cresciuto in una famiglia cattolica tradizionale. Il mio pensiero era quello che il matrimonio fosse la logica conclusione di un fidanzamento, che si trattasse di mettere insieme due persone che continuavano poi a vivere singolarmente la loro vita, anche perché fare il medico spesso vuol dire fare una vita staccata dalla famiglia, finché questo è andato bene, finché Cristina non mi ha presentato davanti un conto tanto pesante, che era quello di vivere due vite separate. Due vite separate sono due vite difficili da vivere, anzi impossibili da vivere, soprattutto quando ci sono dei figli e quando si è deciso veramente di intrecciarle queste vite. E quindi ho seguito soprattutto Cristina in questo procedimento di ricostruzione, di riaccensione dei mutui. Noi abbiamo spesso utilizzato questa metafora nei corsi per i fidanzati. Abbiamo sempre detto che la più grande impresa che si possa vivere dal punto di vista proprio industriale, se vogliamo, è quella di costruire un matrimonio e di mantenerlo nella giusta via. Noi tutti siamo ben disposti a spendere 30 anni della nostra vita e a mettere da parte i soldi per pagare le rate del mutuo e spesso invece cadiamo di fronte alla possibilità di fare la stessa cosa, cioè di costruire piano piano la nostra casa quando si tratta di iniziare a costruire e mantenere il matrimonio che è appunto la più grande impresa che si possa vivere. Il nostro slogan è proprio questo noi, perché noi diciamo a tutti che il primo figlio della coppia è proprio la coppia, è generare il noi, da cui poi verrà tutto il resto, quindi figli donati nella carne e altro tipo di maternità. Noi diciamo a tutti che oggi siamo davvero la miglior coppia, siamo i più belli del mondo, ma abbiamo faticato perché come tutte le coppie è veramente difficile, con personalità diverse, maschile e femminile, ma anche con le radici che ci portiamo dietro, quindi con tutte le ferite, è veramente difficile relazionarsi nella pienezza della gioia e questo comportava, come comporta anche a tantissime coppie che oggi accompagniamo spiritualmente nei loro matrimoni, comportava una fatica, una fatica e degli scontri che poi si realizzano proprio nelle classiche litigate distruttive e tutto questo tempo che poi il Signore ha pienamente ricostruito quando abbiamo capito che non potevamo più contare sulle nostre forze è stata poi la rinascita della nostra coppia che appunto ha cominciato ad annunciare la necessaria generazione di questo noi e a un certo punto della nostra vita noi siamo stati chiamati ad accompagnare, ad occuparci della famiglia a tutto campo proprio per ridare vita e vigore ad ogni tipo di storia. Sicuramente tutti i ragazzi che abbiamo seguito nel corso prematrimoniale e di cui siamo diventati tra l'altro padri e madri, ma soprattutto padrini perché questo ha portato un frutto enorme che attualmente sono 49 figliocci di battesimo e oltre alle coppie di fidanzati tutte le coppie che oggi il Signore ci invia per essere aiutate e aiutate proprio con la sua presenza. La terapia che noi offriamo è una terapia molto efficace innanzitutto perché è gratuita ma poi perché è fondamentale cioè la cristoterapia e la maggior parte delle coppie le accompagniamo proprio per essere nutrite dal corpo di Cristo ovviamente con una presenza fisica di aiuto e questo è il il divenire dell'essere poi diventati la chiesa domestica. Io veramente rimarrei con voi a parlare per tutto il pomeriggio ma i tempi televisivi sono sempre molto stretti. Intanto vorrei invitare tutti i nostri amici telespettatori a leggere il vostro libro Tao Editrice, Noi storia di una chiesa domestica, Cristina Righi, Giorgio Epicoco e vorrei però che concludessimo lanciando un invito alle coppie, lanciando un augurio, una speranza, magari può anche sembrare qualcosa di banale come quando si conclude un'intervista di questo genere si tende sempre a lanciare un invito, una speranza ma anche se è un po' scontato io voglio farlo lo stesso perché magari in questo momento ci stanno ascoltando delle persone che hanno bisogno di una spinta, di qualcosa per risollevarsi, un po' come è successo a voi in un momento di forte inquietudine. Allora innanzitutto io devo dire, rendetevi conto che quando sposate qualcuno vi state mettendo in casa un estraneo, qualcuno che non ha niente a che fare con voi, non ha nessun legame di parentela e diventerà quando vi sarete sposati invece il vostro congiunto più prossimo e più carnalmente intrecciato. Questa unione è quella che vi porterà alla felicità ed è un'unione che vale sempre la pena di mantenere, di cercare di rendere sempre più stretta e sempre più intrecciata. Una cosa che a me piace sempre dire è che il matrimonio è l'incontro di due povertà che si donano ed è importantissimo questo sia per chi sta per sposarsi ma soprattutto per chi è già sposato in questo senso che soltanto se tu riconosci il tuo coniuge come un povero allora davvero tu sei chiamato ad arricchirlo, sei tu chiamato a rendere ricco quel povero che hai accanto trasformandolo in un gioiello meraviglioso. Ci è piaciuto anche molto scrivere un articolo, una riflessione che è inserita anche in questo nostro libro che si chiama proprio Elogio della differenza, cioè avere cura alla differenza delle cose. Quando noi diciamo la parola fidanzamento non è uguale a matrimonio ed è molto importante perché spesso noi investiamo in una relazione pensando che tutte le cose siano uguali, per esempio perché il nostro matrimonio era nato male? Perché noi abbiamo vissuto da fidanzati come se fossimo stati sposati, cioè non da fidanzati nel discernimento vero e quando tu vivi da fidanzato come se fossi sposato non stai vivendo il matrimonio e magari nello stesso tempo invece più avanti si può vivere un matrimonio come se fossimo ancora fidanzati, cioè non calandosi nel vero progetto di Dio, quindi nel sacramento che rende sacro tutto e questo lo dico anche per esempio in relazione alla sessualità. La sessualità sacra non è la stessa cosa di una sessualità vissuta fuori della sessualità sacra e che non può fondare la roccia di un sacramento del matrimonio. Questo è il nostro lancio, questo è il desiderio che davvero ogni coppia possa vivere un matrimonio a tutte stelle, un matrimonio nella pienezza della gioia. Un matrimonio a tutte stelle, mi piace. Intanto vi ringrazio, ricordo il titolo del libro Noi, storia di una chiesa domestica, tau editrice. Grazie Cristina, grazie Giorgio, grazie davvero di cuore per essere stati con noi e per aver voluto condividere la vostra storia e la vostra forte testimonianza. Grazie e alla prossima occasione, perché no al prossimo libro. Grazie di cuore a voi. Ciao. 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 Ciao.